Ciao a tutti raga, oggi è esperimento psicologico, praticamente farò credere a Marta che la mano finta è in realtà la sua vera mano Partiamo, devo farle entrare bene in testa che questa è veramente la sua mano, quella la metti là dietro per favore, così Anzi, no, sì, sì, perfetto, ok Cosa c'è? Mi fai il suelettico Sì? Sì Ok, aspetta, proviamo così con i due Com'è? Eh, se è legico Sì? Sì Ok, aspetta Mamma mia, mi fa impressione Ok, ci siamo Passiamo all'ultimo livello di questo esperimento Che è la martellina Basta